e ciao ragazzi beh come state bentornati sul canale del coach oggi volevo parlarti di per quale motivo tu non riesci ad ottenere il risultato che stai tanto cercando magari stai facendo tanti esercizi magari ti stai allenando ma non riesci a ottenere insomma senti che qualcosa non sta andando bene nonostante i tuoi sacrifici nel farlo magari ti stai allenando tutti i giorni magari ti stai allenando più volte al giorno allora mettiamo a fuoco un po' di cose ovviamente quando ci si allena se ti affidi un po' al caso come dico sempre i risultati saranno casuali ma questa è una cosa abbastanza scontata però se tu vai a pensare effettivamente quanto ci possa essere dietro un risultato c'è il risultato può arrivare secondo il mio punto di vista può arrivare dietro una programmazione su qualcosa di personale perché ogni soggetto è completamente diverso sì lo so mi stai per dire mare sì ma questo è il retorico non è il retorico fidatevi perché proprio questi sono i periodi in cui poi alla fine arriva il disperato del momento che che mi devo allenare si guarda lo specchio delle gambe la pelle flaccida e magari un po di pancia e poi cerca disperatamente o l'esercizio magico addirittura la pillola magica quindi prodotti che magari potrebbe aiutarlo e imbattersi indieta completamente impossibili questo ovviamente non solo non ti porta al risultato ma ti porta solamente a stressarti mentalmente e fisicamente quindi è importante che tu inserisci nei tuoi allenamenti un programma che metti proprio nero su bianco l'obiettivo che strutturi tutto quello che poi effettivamente si andrà a fare per portare all'obiettivo io penso che l'obiettivo non sia una cosa proprio semplicissima da raggiungere perché poi ci sono dinamiche meccaniche diverse ogni soggetto ha capacità di apprendimento diverse movimento mobilità allungamento beh questo effettivamente poi sono tutte cose che appunto si vanno a segnare su un foglio nero e bianco e si prendono in considerazione tutti questi aspetti il riposo il lavoro l'allenamento tutto questo ragazzi serve per arrivare all'obiettivo quindi voglio concludere perché questo sarebbe un bel discorso da affrontare anzi se pensi di voler di voler sentire qualche altro argomento su cui di questo genere come ci si arriva un risultato magari inserendo anche l'argomento alimentazione fammelo sapere che proverò a farlo insieme alla nutruzionista magari facciamo anche una bella diretta se questo ti va quindi ragazzi niente volevo sottolinearti questo che il risultato non è sempre semplice ma questo già lo sai ma se qualcosa non sta funzionando nel tempo allora prova a farmi qualche domanda magari proviamo ad arrivarci insieme da valutiamo insieme quali sono effettivamente questi aspetti da considerare fidati che sono tanti ma non andare a casaccio perché i tuoi risultati saranno completamente a casaccio ok quindi se pensi che questo video ti possa essere utile mi lasci un mi piace oppure ti iscrivi qua giù al canale così non perdere gli altri dopodiché magari giù nella descrizione ti ho inserito un po di link per andare a fare qualche tutorial sugli esercizi fondamentali del fitness e qualche altra tipologia di allenamento per fare sempre i tuoi riscaldamenti prima di iniziare ad allenarti grazie per essere stati e ci vediamo all'anno prossimo e anche bene ciaooo Ciao 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 Grazie a tutti